Buongiorno, sono Tiziano Garbin, sono il coordinatore del pronto soccorso dell'ospedale di Bolzano e credo che il vaccino sia una facile occasione per uscire da una situazione difficile. Quindi sono molto contento di poter fare il vaccino insieme al mio team, io l'ho già fatto, per poter assistere i nostri pazienti nel modo più sicuro possibile. Vaccinare protegge. Vaccinarsi protegge. Vaccinarsi protegge. Vaccinarsi protegge per te, per me e per noi.